Oggi è un'iniziativa importante di una cosa che è già stata fatta qualche anno fa, è stato il recupero di una strada militare che era stata realizzata per scopi bellici di difesa, che fortunatamente non è mai stata usata a questo scopo. È stata ristrutturata da quattro comuni, il comune di Limone, poi due comuni francesi di Tende e la Brigue e il comune sempre italiano di Briga Alta. È una strada che si snoda a una quota tra i 1.900 e i 2.000 metri ed è molto importante questo. Si snoda e raggiunge il Colle di Tenda fino alla Liguria. È interessantissima, è una strada bella perché cambiano i panorami, cambia la flora, cambia la fauna e penso che sia una delle poche strade che raggiunga il mare in così breve tempo. Questo per Limone è certamente importante perché ovviamente essendo il punto di partenza dalla parte italiana, ovviamente dal punto di vista turistico e ricettivo per Limone importante. È importante però anche per tutta la valle perché sono parecchi ormai i turisti che frequentano ormai la Valle Vermenania, frequentano la Valle Roia francese e attraverso questa strada arrivano all'entroterrarigure fino a Sanremo. Grazie a tutti.